Buonasera a tutti, oggi siamo al Grand Hotel Quisisana a Capri per assaggiare i nuovi piatti dello chef Stefano Mazzone e iniziamo con un'astice del Mediterraneo con crema di cannellini uovo alla coque, con fonduta di camembert di capra, servito su carpaccio gratinato di patate, porcini, zucca e virza tartare di tonno con ostriche, caviale e salsa quisi spaghetti, aglio, olio e peperoncino con tonno alla brace e molliche di pane risotto ai funghi porcini e varie consistenze degli stessi in abbinamento Champagne Louis Roderer, collezione 242 ricciola alla brace con capperi, olive, pomodori e pomodorini variazione di agnello laticauda con chanfotte in abbinamento un Riesling Alsaziano Domain Weinbach, anno 2013 riserva come dessert abbiamo un cremino ai tre cioccolati come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi saluto quest'oggi con un cognac Grand Champagne de la Mène Kik Sua